I nostri Natali, i miei Natali di infanzia sono romantici, veramente, con le notti piene di neve e la chiesa che si apre spalancando le porte e cogliendoci con la luce. Anche in altri Natali, altri 25 dicembre nel deserto, Natali che si sono rubati la fame, la guerra, la miseria per essere vissuti nella gioia, nella danza sfrenata, consapevoli che in questo nostro pianeta può vivere in pace e felicità. Ultimamente sono stati dei Natali che mi hanno immerso in tanto dolore e tristezza per tanti. Questo sentimento mi ha aiutato a crescere come essere umano, gettandomi al capofitto in amicizie sincere e profonde, sapendo che come essere umano, nato da donna, anche lui, Gesù, ha avuto forti gemiti, molte lacrime, però è esploso anche della gioia. Quale esploratore che indica la via alla felicità. Amici miei, vi auguro un Natale pieno di queste emozioni veramente sincere che possa il 2016 essere un anno vissuto gonfio, veramente, di amore, di pace, quell'amore viscerale, buono, caldo, misericordioso. Ciao, amici miei.